Facile per lui, c'è un altro seguito Predaxone, Predaxone, bravissimo Sniper Pigni, una settima, coltello, otto Mamma mia Sara Sniper Pigni e Predax, signori, ci siamo, finalmente, manca poco Io allora farei un applauso a questi ragazzi perché siamo per partire signori Si scalda Predax, Sniper Pigni è carichissima e concentrata Direi di partire dalla vincitrice Esatto, partiamo dalla vincitrice in questo caso Sniper Pigni Con lei che non ha mai perso Con lei che non ha mai perso, che ha distrutto No, non lo dire, te non lo dire No, io sono gufo Sentite il suono delle casse, che è incredibile, mi fa quasi l'ansia Subito cercherò di prendere gli speedy cash, importantissimi per prendere le armi iniziali Qui importantissimo Ci spostiamo su Predax al volo, anche lui, armi importantissime Bravo le sue armi Gioco di cast of di MP5, un'arma indelebile Ho trovato due casse con le sue armi Scansione, nemici, si devono sdraiare, prendere per un attimo il sole Momento di stallo, nessun fight iniziale, strano, strano No, si respira un po', respirano un po' 28 team, 94 player left, 93 forse Gli ho tirato da un tizio Quasi non abituati a non vederli fightare allo start Esatto Forse c'è qualcuno qui, vediamo Predax Zikersdager, no, nessuno intorno a loro Guardate la safe Com'è messa Ci sono tantissimi Quello chi è? Chi è quello? Quel tizio là? Sono qui, aiuto, venite qua Molto lontani, non giocano assolutamente vicini tra di loro Nel frattempo Sara ufficialmente compra I perk importantissimi in questo caso Ma Hydro, pericolosissima zona per il fight Sì, Hydro, li vede atterrare E qua deve partire, parte subito forse l'attacco di Predax In questo caso si caravocca Eccola lì Vediamo subito Predax, deve accattare il paragone prima Scende subito, apre Va con il fight, il drop shot è bellissimo per lui È indietro ancora, si gira, ci prova, lo conferma Va a confermare, deve stare attento perché ci potrebbero essere altri nemici Se ne va via Prima kill, apre le danze, Nicolino Predax Apre le danze Predax, dall'altra parte Sniper Pignia invece in quel di Marshland Marshmallow, io la chiamo così Si sposta in quel del tetto Una posizione importantissima per prendere high ground E portarsi a casa delle kill Vediamo se c'è qualcuno allo shop, potrebbe fare delle kill Qualcuno non allo shop ma qualcuno vicino alla rocca probabilmente Perché la chiave è stata droppata Eccolo lì, eccola lì Si prova subito, deve stare molto attenta Insiste, forza e la prende Stare molto attenta Deve stare attenta Sara Perfetto, prova, non riesce all'ultimo Ci prova ancora Conferma la sua kill Una a uno Una a uno, ci potrebbe essere un'altra kill Eccola lì Ci prova ancora, insiste Deve Lo hitta Deve ancora Lo hitta e lo prende Due a uno per Sara in questo momento E ci sta Predax a rincorrere qui sotto di una kill Sotto di una kill e ancora in questa zona qua, Nico Per Pignia forse ne butta giù un altro Ci spostiamo un'altra Sì, andiamo a vedere la Sara Per la terza kill La fa velocissima Fondamentali, prendere già un po' di distacco da Nico Predax Esatto, due kill di differenza Deve insistere La pressione c'è ma La voglia di far bene E di portarsi a casa La Godwage League c'è Ne vede uno, ne vede due E torna indietro Pericolosi Ha bisogno di uno spot migliore Vediamo se riesce a recuperare queste due kill Di svantaggio che ha su Sara Eccolo lì Lo vedono, lo spottano Rompe adesso, sale Vediamo se Piano Piano riescono a fare qualcosa Ci prova Prova a prendere il picchio Non c'è nessuno Vediamo, vediamo Sale Elicottero Potrebbe prendere dei kill importanti Ci prova ancora Predax, Predax, Predax La prende qui E la butta giù Ci prova a bombardamento di precisione Vorrei fare un'altra Ma ecco S'elicottero qua è tipo È possibile Cioè non È impenetrabile Bombarramento di precisione Che non va Dall'altra parte Sniper Pignia invece Cerca Massimo allerta che viene Spottata Esatto Nel frattempo Predax Predax butta giù Conferma 3 per Predax Siamo nella situazione di pareggio 3 a 3 Cominciamo bene Dall'altra parte Predax Ha segnato tutto il team Vedi Dici a sinistra però Penso che era una conferma Di quello che prima Ci prova un attacco Bello il bombardamento In Predax potrebbe essere importante Ci prova ancora sull'elicottero Predaxone Ah non riesce però Dall'altra parte Non butta giù nessuno Stai per Pignia Vede qualcuno Non li stessi che sta fightando Predaxone forse viene vista Sì Sara viene avvistata Potrebbe essere rischioso Ma no Ci va Ah Ne prende quasi una Scende adesso la conferma E la va a confermare subito Comincia il fight Smoke Che in Predax L'Uav portatile Importantissimo Per rispottare gli amici Bellissimo Bellissimo Bellissima la giocata di Sara Bellissima questa giocata Che la prende 5 Ci prova Bravissima Sniper Pignia C'è anche il sesto C'è qualcuno che la guarda a destra però Mi sembra che ho visto La luce là Arancioni E infatti è così Sono due Sono due Un altro team Un altro team Bella kill Bellissima questa kill Bellissima Il tizio canguro È stato distrutto Dall'altra parte Predaxone invece Si deve mettere le placche C'è un cecchino Cecchino da sopra i palazzi C'è un saccesario Sarebbe Sarebbe Però ne prende un altro Sette kill per lei Sette kill per lei Ci va a mettere Importantissima tempra qui Questo Sputino maledetto Lo Sputino maledetto Ah Ah No 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 Gli dovevi Da una Una zaccagnata Ma una cosa così Va bene così però Va bene così Belle kill importanti 8 kill 8 kill Ci spostiamo un attimo Da Predaxone invece Sembra recuperare 5 kill 5 kill di vantaggio Per Stai Perpignia Andiamo a seguire subito Il gulag Silenzio Se lo vince Boato Buone Sara No 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 Eccola lì E ci si sposta Su Predazione Che non deve mollare Deve continuare A spingere anche lui Sull'acceleratore Perché Stai Perpignia Ci sta Vorrebbe Giustamente Però ricordiamoci Che volendo Se completano la roccaforte Hanno la possibilità Di riprendere Il ritorno L'hanno mai fatto No Una volta solo Gisus è morto Sì Dopo un secondo Che l'aveva preso Inutili Comunque Le regole c'è E si vola Li rompe il ballon Sì forse Forse Sneverpin ha rotto il ballon Sì Sara ha rotto il ballon A Predax Ci sta Ci sta Gli ha rotto le ballon Cioè vabbè Giustamente Giustamente È giusto così Comunque intanto vediamo Ancora Predaxone Deve recuperare questo gap Che c'è da parte di Sneverpinia Perché nove Le kill per Sneverpinia Non ha il Gulag Ma la safe È in chiusura di terza Terzo cerchio Quindi dal quarto in poi Purtroppo Arriva a un certo punto Che si chiude il Gulag Quindi il vantaggio È che adesso Predax Viene cancellato In questo caso Eh mi sa che lui Saluta la curva E ci saluta Predaxone lo prende adesso Va a confermare Bravissimo Nico Riesce a confermarla Il tifo dei sostenitori Di Predaxone Sono carichi come le motobenne Predax sale su Deve prendere anche quest'altra kill E Piano piano Ancora 36 38 persone Rimangono in vita I 14 Questo è solo il primo match La prima partita ragazzi Di una best of 7 Si prevede bella Bella luta Se ne vedrà delle belle Kill In testa Facile Per lui C'è un altro Risponde così Predax Con Eccole qui Le kill che gli servivano Eccole qua 6 a 9 Ancora 3 però Le kill di vantaggio Per Saberpigna Che deve mantenere la distanza Deve assolutamente Mantenerla D'altra parte Predax Deve recuperare Deve fare bene Ma ha dimostrato Che può farlo In qualsiasi momento Vedo uno Ecco Ecco Per Pignia forse Va qualcuno No non lo fa 7 kill 7 kill La conferma 27 live 2 sole kill di distacco Predax non molla Un segugio È là Ancora un testa a testa Incredibile 37 persone left 13 Concentratissime Vediamo l'Uav importante Per Pernia Che lo va a tirare Però da una mano Ancasta per Pignia In questo caso Però Predax si sa Che deve recuperare No no Mamma mia Mamma mia Pericoloso Deve stare molto attento Deve stare attentissimo Attentissimo Si si sposta piano piano Questo edificio è pericoloso A due piani Infatti sta aspettando Camperabili Ecco Che forse tenta il push Questo sta a cambiarma Ci sposta subito E Sara prende l'altro Sara prende l'altro Esatto esatto Prende la kick sull'altro Quindi entrambi 10-8 Due kill di vantaggio Andiamo su Sniper Pignia Vediamo se lei riesce a prendere Se fresse entrambi ce li hanno L'economia di Sniper Pignia È migliore 10.000 Spitti cash Predax forse spara Ci prova Predax Mi sa che l'ha lasciato davvero One shot Per quanti colpi Gli ha sparato Esatto esatto Tutti Infatti lo cerca Vuole quella kill Vuole prendere Vediamo se lo fanno Oppure no E Sara nel frattempo Sta convergendo anche lei Sull'avversario Res Res Eccolo 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 Il tenda rollo C'è i miei padri Si avvicina per il fight Vediamo se riesce a prendere Queste kill importantissime Per chiudere il gap Predaxone Va avanza Prendo un energy importante Lo prende adesso Vediamo Eccolo Ci prova Nuke skin Nuke skin Pericolosissima Gli sparano altri Gli sparano altri Sì sta Predaxone Mamma mia Se si girava lo faceva Forse lo busciano Oh non mi piace questa posizione No infatti Nico Devi givappare Vediamo Snepper Pigna Invece Lo sta affidando È sempre qui Giustamente in vantaggio Non ha il gulag Deve pazientare Ah Wavi 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 che gli spotta Predax Gli avversari Infatti Nico decide Di givappare un po' Sar nel frattempo Prende un knock Ufficialmente Ne prende un'altra 11 kill per Snepper Pigna Che cosa succede? C'è un avversario Che si avvicina Predax anche Sara Però ne prende un'altra Ma anche Sara Va a confermare Non riesce a confermarlo ancora Comparamento Vediamoci Spostiamo su Predaxone Che prende la ghina 9 Gulag in chiusura Ufficialmente Tra 3 secondi Predaxone Non ha più il vantaggio Del gulag Sono testa a testa Adesso Il gulag è chiuso E Sara nel frattempo Rennocca un altro Ci spostiamo su Sara Mette lo spotino Utilizzato due volte Potrebbe andare sulla tredicesima kill Snepper Pigna Vediamo se ci riesce Non va a confermare Perché forse c'è qualcun altro Eccolo La pista Anche dietro A sinistra Lo sa lei Vediamo se riesce a fare Bene Sposta piano piano Sopra la sua testa Abbiamo sentito anche noi Anche se è fermato Tra l'altro l'avversario Eccolo qua Bellissima facile questa kill Sarà 14 kill Predax 9 Predax 9 Sotto di 5 in questo momento Ne vede uno No è un piccione 33 player left 11 team rimasti Entratissimi Sia Predax che Sniper Pigna Stanno dando il 100% Andiamo in testa però Sniper Pigna In questo primo match Ress e Predax pusha Predax pusha Sa che deve fare Deve usare un po' È obbligato È obbligato Non per forza però Vediamo forse verso il loadout Potrebbe prendere kill importanti Si sposta verso destra Si sposta verso destra Eh messa resi eh Io con sto chiaro ci vedo poco Eh anche io E vediamo ancora qua Mamma mia È un draghetto però eh Con il compagno Con il compagno Eh sono bravi questi Questi sono bravi Prende like Vediamo Sara ne nocca un altro Ancora Sentite i player Sara Qualcuno sotto lui Ha una gold mask Quindi può rimanere Tantissimo tempo C'è un avversario sotto lui Forse potrebbe prendere una kill Eccolo Eccolo Sono molto bravi Questi sono forti Infatti forse C'è chi no Un San Cesaro incredibile Che cerca di buttarlo giù Deve stare molto attento Non riesce a confermare Nocca un altro Sara ne vende un altro Sara non sa Bravo Predax Che ruba la kill qua Ne prende un altro Bravo È bravo però qua Predaxone Deve placarsi però 11 kill 11 kill in questo momento 11 kill Stai per Pignan invece per le 16 Deve confermare Forse ne ha preso un'altra Predaxone Ci prova ancora Predaxone È dichi importantissimo Mamma mia Non riesce a buttarlo giù Ultimi draghi Ultimi draghi Stai per Pignan pazienta Al vantaggio Non deve rischiare Deve farlo Deve farlo Predaxone Che ci prova ancora Va regalare adesso La safe La safe Hai sentito Raga Si ci prova Eh c'è tantissimo Deve uscire Deve uscire Ma rischia tantissimo Dall'altra parte Stai per Pignan prende una kill Stai per Pignan conferma Stai per Pignan forse giù Per Pignan giù Stai per Pignan giù Stai per Pignan 1 a 0 Per Stai per Pignan Primo match per Stai per Pignan 1 a 0 Sara 1 a 0 Sara Primo match preso Per Stai per Pignan Sarà subito Partita on fire Partita on fire Con questi 17 Inmediatamente Predax Esatto A Saris Bay Predaxone Saris Bay Gioca molto lontano Dalla safe Bisogna stare attenti Perché la safe Soprattutto la prima È molto Molto pericolosa Vediamo se c'è qualcuno Avversario di lendarsi Alla sua sinistra Esatto Vediamo come si gira Ziggler Stagher Ci prova ancora Predazione nazionale Va a lotare quelle che sono Per lui Le prime armi Le prime risorse Vediamo intanto Stai per Pignan E va Sara Forse Aydro Aydro Il punto subito Concentrato Ha trovato la sua zona C'è un team Bella però quest'arma Bellissimo All'inizio Non riesce Quasi Mannaggia Vediamo dall'altra parte Ancora ci giriamo veloci Bello questo Potrebbe tirarlo immediatamente Lo tira Lo tira subito Bravo Nico Ad approfittare C'è uno close Adesso ci spostiamo Di stare attento Alla scansione L'avversario non si giri Eccolo Ha subito Nico A confermarne una Ci spostiamo anche Alla sniper Pignan Dovrebbe avere Diverse persone attorno 94 player left 27 team Ancora sullo 1 a 0 Qui Predazione va in vantaggio Forse c'è un'altra Predazione Mamma mia In volo Un controllo incredibile Una traccata paurosa Non l'ha ancora confermata Ma ora si 2 a 0 Qui potrebbe essere Un bello start Vediamo un po' Vediamo se c'è anche la terza Vediamo se c'è anche la terza Ci prova Ci gira 360 Ci prova Ancora sta ballando Balla Balla Bravissimo Nico E a casa un'altra kill 3 a 0 Bravissimo Plyrax Per questo start di fuoco Dalla tabata Sniper Pignan Invece forse Adesso con le sue armi Ecco forse L'ha visto sotto Sara Tata Tata Managgia Non è servito neanche il suono E lui sopra invece Buono 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 Una kill per lì Viene annientato Sta aspettando Sempre in high ground Quindi sempre con L'aiuto dell'altezza Sì sì c'è qualcuno Eccola lì La seconda Immediato Forse anche la terza Lo vede Pericolosissimo qua Chi è? Sara one hit Il dragone del Kili Manjaro Che ci prova Sempre in tanto Prende la kill 3 a 2 Bombardamento in predict Di precisione Vediamo cosa Rici di fare Vediamo se lo nocca Plyrax si sposta Quindi Ancora una situazione Si è spostato Dentro la casa Non è male quello là Assolutamente no Prova Non riesce Qualche hit Per fargli capire Con chi ha che fare Vediamo se Sara riesce a trovare La kill del pareggio Che UAV È zona pulitissima Donna pulita Andiamo a vedere Sara Allora Se riesce a recuperarsi Questo potrebbe essere 4 kill Se li vuole lavorare Fa finta Di sparare ad altri Vediamo se sono Dei polletti Oppure no Eccoli Si vedono i piedini Vediamo Tipete tapete Tipete Piedini Ma Rimangono La mira no Mamma mia Anche con l'SMG Benissimo questa spraiata Devi continuare con questa costanza E concentrazione Palo Scusate però Facciamo ridere Esatto Oh Nel momento in cui si droppava Pericolo Lui si stava facendo Non mi importa È il pericolo a lei Non ha ancora confermato la kill Dell'altro tizio Spiaccigato Senti qualcuno Vai mira Presumo sia stato Predax dall'altra parte Invece ne vende un'altra Anche lui Due kill Cinque per Predax Forse c'è qualcun altro Predax Va a ricaricare Vediamo Predax Sta ricarica Che su sto gioco È tutta storta Meno male che hanno fissato Eccolo qua Si avvicina a lui L'avversario C'è qualcuno Lì Pipo Sara nel frattempo Nocca un altro Nocca un altro Mi sposto Predax rischia Si gira Stigre stagre Prova È giocante Questo È pericoloso Ne conferma un altro Sopra Mamma mia Mamma mia Eh sì Che tornata Due azioni fotocopia È bellissimo Perché la parte destra Quando ci sono le kill di Predax Non esultano per nulla Nessuno ti fa per noi Nessuno ti fa per Predax No per noi No ma per noi È impossibile di fare Ma fatti si cacchi Andiamo Andiamo ancora Sei Predaxone Tre Sniper Pigna Tre Sniper Pigna E ci sono Dei nemici Un sacco di avversari Intorno a Sara Con un nuovo veicolo Il veicolo ci abbatta No Ma non scappa via E invece no Non scappa Non ha scappato E invece no Va a confermarlo Sara Baywatch Non c'è più Sara usa L'SMG come R L'R come SMG Esatto È quello che faccio anch'io La kill La conferma Sniper Viene ancora Targettata Intanto mi sposto al volo Vediamo per l'Axone Oddio Mi sono toppato Scusate Quattro kill Mamma mia Mamma mia 67 player left 23 team Rimasti in vita Sto commentando Qualsiasi cosa fa Vallo shop Apre E lo tira Close a lei Close a lei Due persone Due persone 66 left Quattro Ancora a recuperare Tre persone Questa forse È easy Prende facile Questa kill Però due Guarda subito Gli altri due Come stanno cercando Di gankare Sono in quattro Ci prova un'altra Nade Non riesce a confermare Purtroppo Mina Coltellino Pane e vino È importante Predazione Anche one shot Predazione Prende una kill Sarà anche Fa una kill Mamma mia Andiamo un attimo Su tutte e due Questa è tosto qua Ci prova Steverpigna Prova a prendere un'altra Rientra subito Predazione Ma anche va a confermare Steverpigna Ci prova Cerca di sparare E non riesce Ci spostiamo anche Predazione Che sta affidando Predazione Anche sta affidando Predazione Deve placarsi Deve placarsi Tutti mori Sta succedendo Che non so più Chi guarda Mese stanno Treccia all'occhi Ci spostiamo anche Di qua Predazione Boom Lascia la mina Pure lui Se me sbaglio Perdonatemi No Mato Tantissimo No La super mina Quella la storta Sniperpigna Intenta prende un'altra kill Sei Sniperpigna Sniperpigna Settima Coltello Un'altra ancora Mamma mia Sara Mamma mia Bellissima questa kill Predazione adesso Tocca a lui Sotto Di due Mamma mia Andiamo ancora Ci prova Predazione Predazione Noca Con lo spirito Che kill Così Nico gioca lontano da Sara Per non farli prendere la macchina Ma Sara Trova anche lei La sua macchinina Posta non vediamo Pusciato forse Da un team No invece no Quello è Jack È Jack Che non è venuto A me anche su Ma sta girando Con la macchina Guardalo Lo sciamano Occhio Ci prova Occhio al treno Occhio al treno Anche il carburante Che è quasi esaurito Seconda safe In chiusura Si va per la terza Ancora una safe ampia Ancora tutto da Da decidere Allora Ne vede uno Ne vede uno Ci prova Non riesce a confermarlo Guardandoli comunque Sembrano Forcentratissimi Possono giocare a casa Però non li guarda Perché se no poi Ti guardano Hai ragione Si distraggono Ma siamo troppo belli Bischia qua Si arrende Si arrende E va il Gulag Va il Gulag Importante Ufficiale Sotto Di 2 kg Quei ripicchi ci ha provato Quell'altro ha tenuto premuto È rimasto fermo Guarda quella finestra Eh sì Adesso Sotto di lei Predax In frattempo Predax Doppino Torna E li distrugge Dice no Non me lo merito Nel frattempo Sara era pushata Sara è pushata Esatto Bravissimo 9 a 9 Perde le placche Sara Fareggio Edgric Sempre Una mina Facilissima Questa kill 10 kill Per Sara Che forse La 12 11 11 La 11 Nientano letteralmente Nel Merino Stanno sparando A Sniperpigna Stanno sparando a Sari Noi abbiamo cambiato Proprio in quel momento Vabbè Vabbè Non ci cogliono Non ci cogliono Ricordiamo che Sniperpigna Ancora il Gulag Vantaggio importantissimo Fondamentale Sopra il kill Doppio Ress Allora va Pazienta Sopra la scale Sopra la testa Ancora Ress Facilissima Questa kill Vediamo Vediamo cosa succede D'altra parte Nico Military base Prova a presentare Sopra È sceso È sotto Scende Sotto di lei Facilissima Questa kill E un altro Nel frattempo è sceso Mentre lei Predax Giu Predax Giu Confermato Confermato 2 a 0 2 a 0 per Sara 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 sta pushando Senza una placca Ma Decide di portarsi la casa Buona notte Questo Questo stava Guarda Ehi Heidi Reazione Vola dall'altra parte Io sarei anche Predermi una Red Bull Stai a fare la marchetta Vibo Senti al pubblico Se tiriamo Lattina al pubblico Esatto Vieni male Vediamo qua D'altra parte Predax Le lettini Sono pesanti Mamma mia Che rimane Predax Deve recuperare ancora 2 a 1 Bravissimo Nico Deve recuperare Perché due Due game Non uno In questo momento Sara Eccola lì Con il knock Prende un'altra Ha già le sue armi Quasi il conferma Anche già le sue armi Che avviene ora In questo momento 2 a 2 Bravissima Sara Bravissima anche Predax Però entrambi Vediamo Predax Questo è il marketplace Qui c'è un sacco De spitti cash C'è i soldi Infatti Bell loot Per Predax Obbligato a comprarsi Il self-rest Quindi presumo Che tornando indietro O UAB O self-rest Vediamo Un po' C'ho l'ansietta Ciao Sai cos'è Chi Sara gioca più tranquilla Esatto La vedo più rilassata Anche il personaggio È più rilassato In un certo senso È vero È vero Sniper pigna giù Sniper pigna giù Sara giù Confermata Confermata anche Da Jerry Vediamo Vediamo La china Goal Gulag importante Qua Predax Si sta facendo Una passeggiata Eccola qua Il Gulag Silenzio qui Facile Brava Sara Facile 3 a 2 3 a 2 Senza Gulag È Sara Sara non sa C'è qualcuno È un full team Forse lo vedono Massimo alerta La vedono No Non la vedono Che è Uuuu Che cosa è Sono un botto L'hanno vista L'hanno vista Sono cattivi Potrebbe aver azzardato Qua un attimo Vediamo se riesce a Scappare Uuuu Mamma mia Un attimo Ho strippato Ho avuto paura Sarà chi va Ufficialmente Ha bisogno di allontanarsi Il più possibile Si sparano però È bordo safe Edge Senza le sue armi E senza una R Qua rischia tantissimo Gli va Gli va Chi è quello là Ma chi è Predex si sta nuotando In frattempo è partito Non gufare Non so se l'hai sentito Non gufo Non gufo La chetta fondamentale In questo momento per Sara È rincorso da un full team Probabilmente Ricordiamo best of 7 Primo che arriva a 4 Non riesce a trovare placche Vediamo E Se lo prende No Mamma mia Questi Questi sparano forte Forse lo pushano Viene pushato anche da una macchina esterna Esatto esatto Quindi corona più macchina Certo perché la macchina va verso la corona Bravo Predaxone però Bravo Predaxone però No Gli arriva soltanto una kill Gli arriva solo una kill Perché l'altro l'avano hitato gli altri Mannaggia Che ghi è là qua per Predaxone Purtroppo poteva essere 4 a 3 Invece 3 a 3 Sara lo vede E si vuole lendare in testa Eccolo Eccone una E l'altro Mina Eccola qui Uh Kill semplicissime Per Sara Ma conferma adesso c'è un pochino Di età di lei Conferma anche quest'altro 5 kill Uh Lo vede Cechino Lo vede San Cesario C'è al CFS però lei Quindi in caso Una bella stecchetta Predaxone intanto butta giù Un altro player 4 anche Predaxone Confermato Forse ci sono più persone Mamma mia Se lo porta a casa Pericolo per la Nade Sempre pericolo per la Nade E fa tempo anche Sara Anche Sara 5 a 5 Parità Attacco Mortaio Sara Mirada Bene a sinistra Ci prova Forse qualcuno Eccolo qua No il pompa di fuego Sara giù Sara confermata Prende la sesta kill Prende la sesta Andiamo a controllare 6 kill per Sara 6 kill per Sara Predaxone non vale Ovviamente ragazzi Uno al pareggio Da regole Purtroppo Per pareggiare Due per vincere Ce n'ha uno davanti Vediamo Non male Ma lo butta giù Ce la prende 6 a 6 In questo momento Pareggio Concentrato Deve essere davvero la kill Che ti entra nel mirino Quella kill comoda Quella comoda Anche girato di spalle Non ce l'ha tanto comoda Predaxone Queste killette No Non ce l'ha mai avuto E comoda Neanche Sara Perché sempre vedo Uno di quattro Poi è ovvio che Cioè dipende dai team Che fai Ti hai anche un po' Fortuna in questo ragazzi Quindi Quello che diciamo sempre Sono entrambi fortissimi E poi è anche un po' Il caso che Non vuoi In questi giochi Ne fanno proprio Fa tantissimo Fa tantissimo Vediamo se si avvicina Vediamo se si prova Le kill è questa qua La killetta è la peggio È la kill difficile in realtà Puta bro È ansiosa Invece vediamo C'è quello là Con il tizio là Vediamo potrebbe essere Guardalo Non è finita però ragazzi Non esultate Non esultate Adesso si Mamma mia Adesso si La conferma E si porta sul 2 a 1 GG per Predaxone Tanza Mi fa sempre un balanza Sì perché E guarda i fratelli di Predaxone carichi Tutti a ballare il ballo Le sale Pazienta Predax nel frattempo Su GG Boy 1 Oddio Oddio Ma che cosa Eh vabbè ma quanti so 700 Cos'era Cos'è successo là Poi si sono sparati tra di loro Peccato perché poteva prendere quelle killette Magari con un coltello là Eh Facevi così Quello che hai sempre detto Controlla il punteggio 0-1 Gulag importantissimo qua Una kill Fondamentale Qua Qua è tosta Quella che abbiamo detto prima Quella erano belle kill però bro Quella erano belle kill Erano fruttissimi Però hanno fatto Hanno fatto l'agglomerato Esatto Sparandosi tra di loro poi Tipo E' andato in pane A chi tocca al Zendrugna Esatto Sempre l'anzietta Del Gulag Lo vede sopra E se lo porta a casa 2-0 2-0 Senza Gulag Sara Nocca Conferma adesso 1-1 Bravissima anche Sara Botta prima il carrellino Lo vede alla sua destra Eccola la kill Mamma mia Tu devi star zitto Perché tu porti Jella Ma io no E tu hai detto Eccola la kill Potrebbe essere la kill Senti come cambia pure il suono È diverso Potrebbe essere la kill Questa decide di Di appare spostarsi a destra Dall'altra parte invece Prete azione anche forse A qualcuno Prete azione non ha nessuno Ci spostiamo un attimo su Stavio Erpinia Che sta affedando Bombardamento Ci deve davvero L'avversario L'uomo sull'impusciabile Quello di cemento armato Quello è tostissimo Sara ha tantissime persone Intorno a lei Sara rischia tantissimo È spottata Sa L'avversario conosce La sua posizione Non ci sono placche Questa Verpigna Verpigna ci prova Va confermata Eccola lì Questa traccata Prova con una Nate Prova con una Nate Deve rientrare subito La Nate non riesce a confermare Ancora due le kill Dall'altra parte Anche Prete azione con due kill E non ha placche In questo momento Sara Sara si ne prende una adesso L'ha noccato Ho visto il simbolino Pane e vino V per sicurezza Sara Ci prova Ancora due le kill Difficile Un match tirato Un match tirato Questa 76 player Questo è tosta È tosta È tosta Dallo spot di prima Sara Miranazista Ancora non gli sparano Sniper Provano a stunnarla Da 3 km Smocchi importante Per Steverpigna Nate brutta Viene ancora Miranazala Forse va giù Sara giù Sara giù Purtroppo giù Ucciso da user Penso che era il team Che la inseguiva Da tutto il tempo Tutti storti User 1 2 3 7 4 8 1 6 5 Sembra un numero di telefono Non è il mio Gulag quindi per Sniperpigna 75 left Predaxone ancora sul 2-2 Senza Gulag Non può rischiare troppo Ne vedo uno davanti a lui però Questa è ferma Una kill gratis Qua E qua Questa letteralmente E nico ringrazia Totalmente regalata E ogni tanto ci sta Vediamo ancora qua Silenzio perché è importante Non faccio niente Se no gufo Bravissimo L'ansia Gulag È spottato Spottato Facile Bravissima Sara Facile 3 kill 3 kill Predax Entrambi senza il Gulag Situazione di parità 3 a 3 ancora Fase di parità Assoluta Eccolo Un team che si lenda Predax Con la quarta kill Nel fattempo Predax prende la quarta kill Intanto Ci spostiamo un attimo Stai per prendere però C'ha diversi Sì Forse un team Qui sotto Predax prende un po' di danno Eccolo qui Stai per prendere vede Stai per prendere vede Predax ne prende un altro Su Haru Arriva anche un nemico Arriva un altro nemico È il momento di Predax Di cenare È il momento di prendere equip Sara nel frattempo Lo knock a uno Give up totale di Nico Perché bombardamento su di lui Sara lo knock e basta Non conferma Non conferma però Sara Non conferma Doppia smoke Apertura Lo vede Sara Ci prova Scende adesso Riesce quasi Sono più C'è più di un avversario Un'altra smoke Importantissima per lei Ci prova ancora 34 colpi Mamma mia 21 Deve recuperare Bravissima qui Da fuori Da fuori Predax da l'altra parte Ha fatto le kill Però anche Predax ha fatto le kill Ci sono un sacco le kill Deve confermare Dall'altra parte Predaxone con 2 kill di vantaggio Ancora 6 a 4 Sniper Pignia Vediamo se riesce a fare le kill Adesso qua mi accendo io Qui con il commento Tutto stotto velocissimo Eccolo ancora Cerca di recuperare Deve stare molto attenta C'è qualcuno Eccolo Spara in Pedict Mamma mia Deve essere poderoso Un'altra smoke Gli vappa la scena Ci va anche davanti a lei Però è pericolosissimo Ci riesce Benissimo Questo drop shot Importantissimo No No Giù Sulle scale da aspettare Mi porta Predax il 2 a 2 però Sarà giù E Predax Ufficiale E prende anche la kill Signori 2 a 2 Eccola qua La prima kill di Predax Parte subito Predax Ce n'è un'altra vicino Vediamo Mamma mia Bello il bombarda Bello il bombarda Bombarda questo è importante Questo è importante Anche un po' Il colpo di fortuna È pericoloso È pericoloso Va giù Va giù Purtroppo non riesce Ci spostiamo di là La mina Vediamo se Intanto una kill Una kill per Sara Anche sì Eh forse da là Quella mina là Ma dove stava L Le ha tirate in faccia L'avversario Appena C'è uno davanti Sneverpignan Ci prova Ci prova Ci prova Ci prova Ci prova Non riesce Tanto io mi giro Una kill Non riesce a confermare Predaxone purtroppo Quindi parte senza Gulag È tosta Eh sì Siamo 16 di ping Tanto io mi sposto Gulag Abbiamo subito A seguire Gulag Sempre ansia Eccola qua La kill Pericoloso Ma riesce Si porta sul 2 a 1 Intanto Sneverpignan Eccola qua 2 a 2 La kill del 2 a 2 Kill uguali Vantaggio però per Sneverpignan Perché ancora il Gulag Fondamentale Fondamentale come vantaggio Per Sara Poi decide Predaxone Torna ancora Hydro E si gioca Il loot All'interno del benzinaio Gulag da manuale E di go in chat Per Petaxone Adesso Deve recuperare Sneverpignan invece Deve cominciare a prendere Qualche kill in più Per andare in vantaggio Può farlo anche ancora il Gulag Quindi È questo il momento in cui Prima safe Perdere il Gulag È tosta È tosta Questo è il momento in cui Secondo me Sara Deve approfittare Del fatto che Nico non ha le sue armi Esatto E cercare comunque Qualche kill in più Per assicurarsi Un po' di gap Sposta Torna in quel di Hydro Sara Mentre Nico Nel frattempo Eccolo qua Che già compra le sue armi Compra solo La R Non ancora L'SMC Kit di Outress Fondamentale Nel frattempo Sara Prende una kill Sposto allora qui Buonissima E la conferma La conferma instant Non riesce a fare niente Questo ragazzo Perax 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 rischia tantissimo Schiopettato Mamma mia Non ha Ricordiamo che ha anche Utilizzato Smoke qui Forse io la tirerei Esatto Bravissimo Datte subito Via Due kill ancora Ricordiamo che non è il gulag Ci si sposta Vediamo se riesce a fare qualcosa Il gulag Fondamentale Con sempre l'ansia Per il gulag Facile 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 Ma quello che guardava Ma perché non si è girato Io vado dritto ragazzi Sempre tante volte qua hanno giocato Entrambi Entrambi stanno giocando molto Hydro Ho sentito dei spari Ho sentito dei spari però Andiamo Andiamo Cerca tutti gli angoli Senti l'avversario sopra la sua testa Succede Io ho sempre l'ansia che ti autobombardi Mamma mia che draghi E va giù E quindi 3 a 2 Per Sniper Pina 3 a 2 E entrambi probabilmente di nuovo Hydro Invece no Predax ha Saty Cave E Sara cambia zona E decide di giocare con Predax Vediamo cosa succede Predaxone Entrambi in Saty Cave Sara ha palesimente seguito Predax Non so se hai notato Ha guardato prima Verso Hydro Poi ha detto No Va lui qua Ci vado anche io Mamma mia E nel frattempo Predax Nocca una persona Una kill Di vantaggio per Predax Parte subito forte Parte subito forte Subito forte Mamma mia Altri avversari davanti a Nico E lo vede Lo vede Lo vede dall'altra parte Vediamo L'ha visto L'ha visto sopra? Bravissimo Edgis Però anche l'altro Non mi sembra male Non mi sembra male Non mi sembra male Mamma mia Mamma mia Non lascia one hit Ma non resisterei troppo Girerei più che altro Vediamo se riesce a farlo Cioè è buona questa canata Potresti tirarla sopra Vediamo se riesce Oppure no 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 Non lo fa Non lo fa lì Non lo fa Non lo fa Non lo fa Mettila Bruttissimo Quello spot Ancora lì sopra È tremendo No 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 Non mi piace questo Non mi piace Non mi piace neanche a me Non lo vedo Troppo gasato Vediamo se riesce a fare qualcosa Sta sopra la testa Ora Qua non ha toto metri L'ha segnato Mi sa che non l'ha visto Sì 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 Mi sa che non l'ha visto Vediamo prendere le ground Si riesce piano piano Ancora là Mamma mia Stava già È bravo Questo è un fenomeno Che stava già guardando la posizione Dopo tutto sto giro Puzzicchia Puzzicchia Puzza più Predax però Che prende questa kill importantissima E la conferma Se la porta a casa Dall'altra parte Sniper Pignan Che ne butta giù un altro Due kill Due pari Ci siamo Due persone Sotto di lei Buono qua in the ground Buon paramento E decisione in predict Ci prova Va a confermare adesso Non riesce Con il drop shot Che lo prende adesso C'è un altro pure Che va sopra E queste sono buone Queste sono buone Letteralmente Mamma mia Quattro kill per Sara Quattro kill facilissime Dovrebbe averci anche il quinto Se non mi ricordo male E all'interno sì Vediamo se riesce Vediamo se ce lo trova Eccolo lì Cerca di toccarlo One hit Nade Esce esterno SMG Lo uso come R Facile 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 E lo usa benissimo 5 kill 71 per left 23 persone Si sta arrestando Così resta Hai sentito anche te Così lontano Si sembrava Close Predax deve recuperare Predax deve recuperare Lancio vicino a Sara E Predax dovrà continuare Con l'Hurricane In questo momento Sara 5 kill Sposta Controlla la safe Cercando di capire Dove sono gli avversari Lancio di Importante in arrivo Predax Nel frattempo Superpa Predax Ne butta giù un altro Ancora Deve placare Obbligatoriamente Predax Predax Adesso C'è poraccio Non è riuscito Neanche a confermarle E queste sono Proprio le classiche Subito Bulag Subito Bulag Vediamo perché qua Non dico niente Ma Vedere Non voglio neanche vedere Mamma mia Mamma mia C'è da dire che Niko sta trovando bei draghetti Però Su questo lo voglio dire perché C'è gente Molto molto forte Su questo lo dico perché è vero Ci sta Non deve mollare Neanche Sara però deve mollare perché è tutta una questione di notazione La fa adesso infatti Butta giù subito Bravissima Sara Ci prova Va a prendere le nade Deve prenderle Sono due Deve stare molto attenta Ha il vantaggio non solo di kill Anche di Gulag Quindi potrebbe prendersi la kill facile Bartella ancora ci prova Deve Mentre su le placche Ci prova adesso Deve stare attenta allo scavalchino Perché è possibile qui Sì 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 che vai di sotto E poi c'è stata un'altra cosa Esatto Ancora una nade Deve rientrare Fortissimo l'avversario Eccolo lì Ci prova Riesce Bellissimo Bellissimo questa kill però Bellissimo questa kill In Edglish Clamoroso L'attacca a grappolo Speriamo che per una volta funziona Confermato ufficialmente Altre due persone davanti Sara Ne prende un'altra Vediamo se riesce a prendere anche la Quarta e ultima kill forse Questa volo per Daxson intanto prende il culo Che ci ritorniamo su Sara Ancora Conferma 8 kill 8 kill 72 per il left 22 Siamo in vantaggio Ricordiamo che il match point C'è qualcuno sopra Se Sara vince questo game Si porta a casa La Godwager League di quest'anno Vediamo se Stivappa E puscia No no vuole andare Vuole andare Deve farlo adesso Deve prendere il vantaggio Deve Piggiare sull'acceleratore Sempre Con delicatezza Perché non deve rischiare Vediamo ancora ci prova Sara Bravissima sempre in high ground Guarda come tiene sempre l'altezza Non c'è mai di rischiare Giustamente Gioca bene anche 8 kill 3 kill Predax deve fare il miracolo Difficilissimo per lui In questo caso Adesso vediamo qua Eccolo Continua anche se Riesce a puttare Sare 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 9 kill Subito smoke Subito smoke Subito È pusciata È pusciata È pusciata Niente di lati Vediamo se riesce Si placca Predax senza placche Predax si rischia tantissimo Anche lui Ci rispostiamo da Sara Sara si fulgosta Preferisce così Predax ritrova le placche Si va a placcare Predax ci prova Predax Nel frattempo Per la quarta kill Vediamo se riesce a confermarla Deve stare attento Non è sempre press Uh Sara Sara quasi giù Mamma mia Nel frattempo Nico Nico sta noccando il mondo Conferma anche Sara Però ne prende un'altra 4 Nico 10 per Sara 10 per Sara Nico non riesce a prendere l'altra Deve stare molto attento Qui Sticker Zagari si sposta 68 player Rimasti in vita Vediamo se Ritrova il suo Knock Sara vediamo se prende Buavvilo Tira adesso Match point per Sara Ricordiamo Recupero per Predaxone Ne vede 3 Non alza e press Coda Probabilmente Che stanno pushando la corona Prende la kill Intanto Predaxone La quinta kill Decide di givappare la corona Probabilmente per prendere Un po' più Il centro safe E provare a fare Le kill dopo Sara Vede un rest Allo shop portatile Sta aspettando gli avversari Perché tanto devono pushare Verso di lei Ci prova Qualcuno che si spara Vediamo Predaxone Deve recuperare Non deve forzare C'ha le kill di vantaggio 5 kill so tante Più il gulag Deve sbagliare Deve dire Deve sbagliare Predax Giustamente Attende anche quello Attende anche L'errore di Predax Eccolo lì Ancora ci prova Trai Predax giù Predax giù Potrebbe segnare questo La fine di tutto Un san cesare Un camion alla jack E va giù Ed è la conferma Che Sara È campionista Della God Wager League Sara Ufficialmente Campionessa Allora ovviamente Un applauso anche A Predaxone Nazionale Eroe Un applauso a entrambi E Sara Massima sportività Però Un gg Anche alla campionessa San Do vai Via qua Via qua Do vai Aspetta un attimo Un applauso Esatto Un applauso Oh un po' di casino Di più Di più Bellissimo È incredibile Aspetta Devo essere sincero Sara Io mi aspettavo Che tu Giocassi in modo diverso Invece hai dimostrato Nuovamente A tutti E a tutti coloro Che ti hanno seguito In questa God Wager League Che giochi in LAN Come hai giocato a casa Davvero Complimenti Super complimenti Almeno qualcuno non dice più niente Speriamo 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 Parleranno sempre Hai ragione Hai ragione Hai abituato No Sono troppo contenta Ve lo giuro È bellissimo Aver vinto davanti a tutti Non aver mai perso Sono Mi tremano le mani Non lo so Sono troppo emozionata È bellissimo È giusto così È giusto così È un'emozione sana Grazie a tutti veramente Grazie a Dario A Pibo Tabù spezzato Ok Quindi che le donne Possono fare il culo ai maschi Ragazzi Ok Viva le donne Giusto È giusto dirlo Sara Ti do un consiglio Togli la coppa a Dario Perché la porta a casa lui Se no Dario dammi sta coppa Che è mia Comunque Predazione Anche un guerriero Dico Qualcosa Sensazione Peccato Quando eravamo sul 2-2 Per la Bonsimbet Dico solo questo Eh lo so Niente Grazie per l'organizzazione Per tutto il torneo Per tutto quest'anno È stato eccezionale Mi ha motivato Tantissimo a giocare Mi è piaciuto tantissimo Però è stato davvero Un bel anno Lo stesso Sono soddisfatto Quindi Grande Dico Grazie mille Anche a tutti voi Che siete qua Siete spettacolari E siete la forza Di ogni content creator Quindi Siete sempre benvenuti Bello dei casi Bravi Bravissimi questi ragazzi Bravissimi davvero Oh GG Sa GG Predazione GG Le coppe con i vincitori Verso destra Ah è vero Perché la telecamera è quella Sara campionessa E Nico Secondo posto Bravissimi Bravissimi ragazzi Bravissimi ancora Gravissimi già garanti Grazie mille Grazie mille